Buonasera da Daniele Sani oggi vi presento la nuova Polo allestimento comfort con cerchi in lega opzionali neri neri eccoli qua vediamo lo spazio in bauliera così questo è lo spazio con la possibilità di avere un doppio fondo tirando su il pannello entriamo la pasta posteriore della vettura e sulla parte anteriore eccoci all'interno possiamo già notare il volante in pelle con le funzioni relativa allo stereo volume e risponditore delle telefonate l'autoradio touch con il collegamento a apple carplay e a android auto tramite porta usb in modo da interagire col telefono e anche navigare tramite google map mappe o whatsapp inoltre via voce di serie sensore parcheggio con con relativo visualizzazione dell'eventuale distanza oltre che acustico climatizzatore bizona destra e sinistro come potete vedere e regolatore di velocità di serie sul pacchetto tech nulla ora vi aspetto presso il nostro salone per valutare eventuali offerte alle migliori condizioni grazie e una buona giornata a Grazie a tutti.